musica 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 baslich non ho scherzato ok baslich ha fatto qualche assist per caso ok musica eeeeh no che peccato hanno fatto gol ha fatto assist molinovski ha fatto assist molinovski due gols e non c'è uno castrani musica 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 vai leo comando tu a parte c'è la victoria leo 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 eeehh ok musica la prova tempo l'hai fatta? E' vero tu? Ammo li molesti, dov'era qua? Sì, qua stava La gru... E se stanno la bu? C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' guarda la giamma niente, sei presente da me e io ho un cecchino prima arma e io non cazzo no lo sono cagato di bus no non è possibile angelo venite a me, angelo venite a me ma? ne ho capito ma io non c'è manco armi ma non c'è manco armi non era morto era morto infatti si, due venti li ho dovuto fare no ho seguito Mario ah nabbo è morto di nuovo ma nabbo ma nabbo mi sentite il team da me ci ho scegli no raga lasciatevi qualcosa che io armi do il mio bravo non so che stanno bene e lo lasciate io e lo lasciate io si, un bezzo no e no e questa è per il piede no comunque ce ne avessi un atterrereo mio qua ci stanno i cavoli vedete qua ci stanno i cavoli vedete raga la kill ma come non lo potete lasciare per schede quanti te ne servono? ma non ho i cavoli ad armi non ho armi io come fai? e che ha preso un'arma? e che ha preso un'arma? io ho il cecchino e il pompa di quello che ho ammazzato tropevo e basta fino alla ma ok canzello un'altra volta canzello non è in caso che non vuole più guardare qui la stanno guarda chi sei venito? mario ah guarda qui gli dico faccia un pom guarda da me che io armi vanno a me sono un po' schiedi sono anche quel c'è qualcuno giù? niente qua? qua dove? roba da me eh io nooo io come cazzo mi sparo dai ragazzi mannaccia misere basta errà uno c'è un capito da voi comunque sono qui dentro ce ne sono due o tre guarda 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 ahhh la gente si sveste ahhh riesce il mondo ma sto disetto youtube vedramo qui di dove vai con qui c'è la e per giù no ora il post dove mi dove per No, c'è ancora la verde Nabbo? Nabbo? Che c'entra Nabbo? Ah no, non lo sentivo più Spiegami di partita Mi vuoi dare qualche per favore? Vieni qua, le due Qua Vivo Eh, ma a me stanno una volta di vita E' tutto quanto Calmo, calmo La Lidl siamo qua, siamo gli sconti Entra la macchina, vada Non credo siamo qui Non credo siamo qui Raga, se trovate un assalto, per favore Piggate, calmo Un figazzo ce n'erano indietro Quello di là La entra dentro Non credo 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 si sta arrivando ecco qui andiamo un po' una tramana ebbietti E' un po' di merda! Ma mia, a me la città è la nuova! Mamma mia! Wow, I made it! Siamo già a 16, bene! Ecco, qui! La pratica è di una bohaha lol! In due partiti ho durato 3 minuti! E' il tono! E' il tono! E' il tono! E' questo, dove vuole? E' il tono! E' il tono! E' il tono! E' il tono! Ne abbiamo uno qua! Ma che fa? E' il tono! E' il tono! E' un po' iniziatore! E' il tono! 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 ho 15 band e 3 metri ho 15 band e 3 metri oh dico è un po' questo gli ha fatto un golpe di roba che ha fatto 800 spander e poi ha fatto e poi ha fatto con le tranquilli è diventamente ho visto che braffava armi perchè mi capisco sta tuttando poi non paitava nemmeno non paitava e tu hai visto il shield con un 91 che non paitava non paitava vai paco vai non mollare mai non mollare mai non mollare mai non c'è fai dai dico 1 paco non paitava ma non paitava non paitava non paitava almeno io non esco mi chiedi non paitava vabbè non paitava non paitava non paitava qua c'è nessuna che dove viene fa ancora un po' dipendina No, 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 no. Ho fermato la lancia, aspetta, la safe foe mi sta chiedendo Nooo, ma che cazzo Allora abbiamo gente dietro Ce l'hanno con me? Veloce, veloce Allora poi il medikit Spia a te No, abbas, di barco, barco Abbas Ok Avanta a te? Si è barco Tu lascia anche gol Dove? Un masto Un masto, ok Uno sta salendo dalla montagna Pago ti ha lasciato colpi dietro, le hai presi Colpi di che? Si, di testo Si, Pago pastela tu la porti da 50 Lanciala Ma la porti in 6, fumo Non c'è Non c'è Lascia strada, lascia strada l'alciare Questa è la schermiccia Non c'è la schermiccia Sto facendo una vozza Intagra Altra gente là sotto Altra gente Altra gente Altra gente Ce l'hanno con me Prover Ledger 131 31 46 Bianco Oexe Siamo la faccio io Eeeeee Dietro Stiamo qua Siamo qua Una faccio maschino A meno che non la vede Qualcuna scelta Oh sulla montagna 10 scelta ecco qua la scuola vai 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 oh come attra la potasione in fight ok, i level one if you want to bello questo bello questo faccio finalmente un po' raga un sacco di shoot in ma non lo riesco a pigliare siamo 3 contro 2 raga sta close a nabbo se non ha fatto un cazzo se non ha fatto un cazzo ok però ce lo riesino qua sotto dentro i tuoi ma te kill hai leo tu mentre ti devo lasciartene ecco sono qua c'è l'hydropp di sotto l'hydropp mi vedessi almeno qualcuno serve una colpicecone a 105 a me venga qui venga qui trello ho qua vai a terra un'altra direttissima ok è morto vabbè 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 ho capito mamma vabbè che mi conta una gilla vabbè 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 vabbè